Ma qui siamo qui per assistere soltanto alla corsa di una cavalla. Se poi andrà male, pazienza. Partiti. In vantaggio Drago Rama davanti a Di Montina, Perloff, Gibraltar, Viedna, Alba Dorata e Valle Cupa. All'inizio della curva in vantaggio Drago Rama davanti a Di Montina con all'esterno Perloff, Gibraltar, Viedna, Alba Dorata e Valle Cupa. Poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio Drago Rama davanti a Perloff, Gibraltar, con all'interno Di Montina. Seguono Viedna ed Alba Dorata. I cavalli entrano in dirittura. Con Drago Rama in vantaggio davanti a Perloff, Gibraltar, Di Montina, Viedna, Valle Cupa ed Alba Dorata. In vantaggio Drago Rama con all'esterno Perloff, Gibraltar. Tra i due Di Montina seguono Viedna, Alba Dorata, centropista e Valle Cupa. E' sempre in vantaggio Drago Rama davanti a Viedna, Alba Dorata, Valle Cupa e Perloff, Gibraltar. Prosegue in vantaggio Drago Rama davanti a Valle Cupa e Viedna. In vantaggio Drago Rama davanti a Valle Cupa, Viedna ed Alba Dorata. Drago Rama va al traguardo. Onore anche a Valle Cupa. Però sono rimasto malissimo della corte di Perloff, Gibraltar. Sarà solo una questione di terreno? Punto di domanda. Secondo Piero sì. Secondo Piero è un problema di terreno.